Ok, fa strada tu, visto che sei così intelligente. Non temere, Lynch. Lo farò. Ne vedo qualcuno. Not that. Attacchi! Pando voi, K. Pando voi, K. Non sembra brutta, Riffich. Ci sarà solo qualche blindato. Liberati di loro. Qui siamo pronti. C'è un sacco di gente che ci sa fare. Siete bene. Siete bene. ce l'abbiamo fatta rifi ce li abbiamo distrutti siete pronti certo stiamo a posto che cazzo era questo vieni giù la testa rifi ok non ci crederete mai k ha messo le mani su un carro armato tirate giù quella merda dal cielo non troviamo quel bastardo facci piano non puoi prendere troppo la 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 che Ehi, scoprici! Ehi, scoprici! Ehi, scoprici! Ehi, scoprici! Sto provando! Ma fateveli scappare! Prendiamoli! Ehi, scoprici! Ehi, scoprici! Ehi, scoprici! Ehi, scoprici! Ehi, scoprici! Cerca di coprirsi! Vince e io andiamo da questa parte! Voi altri pensate agli altri ingressi! Che nessuno ne ha escadito! Non mi aspettavo così fresco, vecchio! Vecchio? Riconosco quella voce! È quel bastardo che mi ha rotto il tasso! Ci spi! Ci spi! Ci! 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 Grazie a tutti. Sì! Non c'è una granata. 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 Dove sono Carlos e i fratelli? Dove sono tutti qui? Non c'è una granata. Non c'è una granata. Carlos. I fratelli hanno preso tutto. Hanno capito che era finita e sono scappati. Vuol dire che qui non c'è niente. Tappati la bocca. Portamelo qui. Subito. Carlos. Te lo dirò una volta soltanto. Dimmi dove sono i fratelli. Devo trovarli. Sono scappati. Ma posso guidarli da loro. Bastardi traditori. Non hanno nemmeno provato a portarvi anche gli altri. Fallo. In quanto tempo possiamo raggiungerti? Tre giorni. Stronzate. Non puoi fidarti di lui. E che cazzo faccio? Non ho altra scelta. Kane, non mi fido più di te. Arrangiati da solo. Non mi bacchi il culo per niente.